Le prime due gare del Campobasso in Lega Pro hanno inaugurato la programmazione sportiva della nostra emittente. La trasmissione, curata da Luigi Di Lallo con Gaia Cosco, segue livello su Blu in diretta dalle tribune stampa delle squadre inserite nel girone C, con interviste in tempo reale nel post partita dagli spogliatoi. Ma domani riprende a pieno regime la programmazione sportiva della testata giornalistica sportiva e a presentarla è proprio il direttore Antonio Di Lallo alla sua 34esima stagione consecutiva con questa emittente. Queste prime giornate in sostanza abbiamo rispolverato una trasmissione che faceva parte della storia della redazione sportiva di Telemolisse, quindi insomma in contemporanea con le partite del Campobasso, è già partita Rosso Blue Goal con ospiti, interviste, con l'acquisizione del pacchetto Stadio Studio, quindi possibilità di collegarsi con lo Stato di Selvapiana e più in generale con gli stati di tutti i campi delle squadre che partecipano alla Lega Pro. Domani riprendono i campionati di eccellenza e promozione, mentre la Serie D inizierà il 19, domani per la Serie D c'è soltanto il turno preliminare di Coppa Italia che seguiremo, esattamente a Vasto Girardi, e quindi abbiamo pensato che con la concomitanza dei campionati di eccellenza e promozione ripartiamo quindi con la programmazione sportiva alle 15 e 25, domani pomeriggio a tutto campo. In studio ci sarà Benedetta Fazio e ancora una ragazza che è un volto completamente nuovo della nostra emittente, quindi ci sarà anche Gabriella Laurelli, mentre alle 18 domani pomeriggio domenica sport insieme a Leonora D'Aversa, Pino Somma dalla redazione di Termoli, Amodei dalla redazione di Isernia, collegamenti con Viterbo e quant'altro. Poi nella giornata di dopodomani lunedì via anche a Molise a Calci dove ci sarà questa trasmissione di riflessione che conduci proprio tu, sempre con ospiti, la Moviola e tutto quello al quale il grandissimo, il vastissimo pubblico della redazione sportiva di Telemolise è affezionato, è legatissimo. Quest'anno c'è la giunta di Rosso Blu Gol, quindi la programmazione è arricchita sportiva in ragione della Lega Pro che il Campo Basso ha guadagnato sul campo qualche mese fa. Certo, dobbiamo pensare che è un campionato di C unica o di C1 perché l'ultimo campionato di C1 disputato dal Campo Basso è stato nella stagione 88-89, quindi sono passati credo più di 30 anni. Quindi con il ritorno del Campo Basso in Lega Pro abbiamo rispolverato questa trasmissione che è stata storica perché ci sembra giusto seguire alla fine l'unica squadra del Molise che partecipa a un campionato professionistico. Naturalmente mi obbligo a ringraziare tutti i ragazzi della redazione sportiva di Telemolise perché, insomma, io lo dico sempre, sono i migliori che ci sono sul mercato, quindi evidentemente andiamo avanti con una formazione super collaudata soltanto con un unico innesto. E poi un ringraziamento particolare a tutti i tecnici che fanno veramente lavoro ordinario, straordinario e di più per consentire a noi della redazione sportiva di Telemolise di essere sempre pronti a sfruttare ogni occasione per assicurare il meglio a tutto il nostro vastissimo pubblico. Quindi buon calcio a tutti.